Ma bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Siamo su South Park dei Stickers Flux e oggi siamo tornati e dovevamo fare la missione... ho sbagliato... vabbè... Ehm... Dov'è il campo di addestramento? Qui, ma io... Ah, casa di Cartman? Eh sì, casa di Cartman! E dov'è? Ah, qua, qua, qua... Combatti bene coglionazzo, ma il segreto del successo in battaglia è imparare a raccogliere il potere delle tue scorreggi... Usare questa magia su un avversario al momento giusto è il punto cruciale della battaglia. Ti mostrerò come si fa ma prima dovrei sopportare... Soporto, devi promettere che mai e poi mai scorreggerei sulle palle di qualcuno, ok? Scorreggere su un amico è necessario ma scorreggere sulle palle... NON SI FA! Capito, va bene, diamo il via al tuo addestramento allora. Per non c'è l'uso del drago devi poi non liberare la mente e fare un respiro profondo dal culo, così. Ah, ok, quindi... Devi farla agitare dentro! Ok. 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 Se li svolono via, sennò... Non questo. Vi dito il castigo. Andiamo a farlo. Vedo delle scorreggiate ragazzi. Volevo capire come si reclutavano nuovi compagni perché non ho capito, sapete? Cosa? Usa Q per passare da un compagno attivo all'altro e spazio per scegliere un nuovo amico o per congelare un amico. Come si fa? Aspettate un attimo eh. Cosa fa? Kenisce i nemici con la sua nobile presenza. Kenisce ho con un bacio in... Ehm... Schiocco un bacio in nemici per congelare un amico. Chi fa? Proviamolo. Dai. Proviamolo. Ah si aspettate. Quest. Chiamato degli eraldi. Delite che... Scuola di Craig? No? Scuola di Craig? No? Abbiamo qualcosa... Qualche punto di spostamento vicino? Aspettate eh. No. Però questo è sicuramente più vicino. Però questo è sicuramente più vicino. Ok andiamo. Ok andiamo. Where's your leash human dog? This elf is gonna fuck you up! You scared? Botta risposta. Botta risposta. Sì non mi fanno un cazzo veramente. Bossa... Merda. Eh questo è fortissimo. Altro che. Sì. Ah peccato. Ah lei ha l'arco. Allora. Quando la tua arma lampeggia. Fai click con il pulsante sinistro per attaccare. Con il pulsante destro per un attacco potente. Oppure F per scoreggiare. Madonna. Madonna. Ah in combattimento proprio si cambia come niente. No voglio provarlo voglio provarlo. Come se. Ah. 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 Boom. Madonna. Santa. Madonna. È fortissimo. Fortissimo. Sì sì sì. Non è una donna, fa finta di essere un momento merda. Dai, no, ma dai, ho iniziato a putare. Olè. È utile, ragazzi, devo dire che fa un casino di danno. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati. Vediamo. Grazie. Grazie. Grazie, questo è detenzione. Ok? Stop guardando la tua guardia perché sei qui per tre ore, ragazzi. Ok? Ok? Non pensi che i tuoi amici saranno venire a uscire questa volta, Craig? Il mio nome è Feltzvar e sono un lato di level 6 e i suoi uomini mi rispettano da questa torta. Parola, accend... Mentre fa lezione. Sì, anche gli alunni. Eh. Posso picchiare? Ah, no, lo picchio proprio. Contro di chi? Ma dov'è? Ma dov'è? Ma dov'è? Ma dov'è? Il mio futuro, ragazzi. Ma dov'è? Un po' io ci si fico. Ma dov'è? Ma dov'è? Ce che si fico? Cosa? Ok, no, non di qua, di qua, voglio rubare, no, voglio rubare, sì, non ho tempo di girare tutta la scuola, devo andare, no, è chiuso, oh, yes. Oh, beh, prendi tutto. Ok, finalmente, ce l'ho fatta, oh. Madonna! Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Perché non posso? Cosa devo fare? Ah, si può andare di qui. Ok, ok, ok. Anzi no, usiamo questo. No, voglio provare questo. Sì, sono stupido che non l'ho colpito quando dovevo. Grazie a tutti. Beh dai è morto. Ok perfetto. Andiamo avanti. Il quadro del corridoio qua ci sono. È pieno proprio ragazzi. Non so proprio dove andare a prendere. È chiaro. Perfetto. Qui? No Eh, l'ho fatto Eh, scusa Zio Capiamoci un attimo Q Ah Ok, ok, ho capito Bisogna poi fare F Lol Ok, bene Qualcosa dobbiamo prendere? C'è qualcosa lì Qui c'è un sacco di C'è un sacco di roba ragazzi Sto prendendo Tanta, 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 tanta Tanta roba Ma no, ma non voglio il comando mio Bella E uno Comunque è andato E beh Ok Allora Bella Aurora 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 Madonna Madonna La cura ti picchio adesso che è bormort non è poi così tanto paura questa tizia in realtà non ho parato è forte non ho parato posto posto dappertutto ecco ma che ha per quic non fa se un giocato computer lab Niente Uh, sì, sì, qua Madonna, ma quanti sono? Scusa, eh Boom Ok Ok Ehm, qui? Di nuovo? No Cosa devo fare qua? L'avevo immaginato Cosa devo fare? Aspettate che mi hanno invitato il messaggio Ma vaffanculo Ehm Comando Mico Ok, non serve un cazzo Non so che cosa stava ragazzi Ah, qua Coglioni Ah no, devo parlarci qua Geme Ok Eh no E' un altro Un altro amico Devo usare nel senso Ma va Scusa Scusa Tanto non devo usare lui È uno sfida Infatti Che stupido Ma che cazzo? L'ho già fatto prima Ma vaffanculo Lo dovevo già fare L'avevo già fatto L'avevo già fatto Ma vattene a fare in culo va Ma vaffanculo L'ho già fatto L'avevo Proietta Vabbè Adesso dove dobbiamo andare? Dovremmo Qualsiasi porta Chiusa Da un lucchetto Qualsiasi porta chiusa Da un lucchetto Noi ce l'apriamo adesso Questa? Sì Vediamo Che piglio tutto qua Oh 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 La chiave d'oro No ma non te Chiave d'oro Eccola qua Libere bambini Nel bar Ok non è qua direi Ah no è da caffetteria Ok vediamo Qui no Caffetteria Chi è sto stronzo? Ah lui è il supereroe Capo dei sorveglianti del corridoio Oh cacchio Ma porca Quanta vita è la sua tizia 339 No 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 Che se lo quanto toglie Mio dio Ma muori va Sucava Suca No 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 Uh no 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 Well there's a perfetto è un apparato scusa chi è un apparato? porca puttana è morto ah si è morto bruciato vuoi vedere? ho sbagliato allora qui occhio nero ah qua ho preso un sacco di roba intanto guarda quanta roba madonna santa guarda quanti madonna quanti milioni ci faccio con sta roba queste cose madonna beh si questo lo sapevo che non avevo preso tante di pozioni mazza del risanimento questo è qui poi dopo la curati spaccando la faccia di tuoi nemici oh figo oh bello 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 anche la eh si è bello l'arco però no no uso quello che queste cose qua poi quando salgo il 3 ok cosa devo fare? dove devo andare? cosa devo fare adesso? non ho capito dovrò tornare di là però non ho capito proprio dove oh aspettate no vabbè dove devo dire devo andare caffetteria no ah si cosa no me è giusto eh infatti eh si lo stupido io un po' sta missione è stata una provata allucinante livello 4 vai 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 continuiamo così continuiamo così sempre loro ok continuiamo così che abilità si ma pensavo non si potesse ok e poi livello 3 ok no questo no questo fio driver ah figo figo le abilità sono belle ho la palla così è una figata una figata è una figata questo li amo vediamo la palla che figo che figo che figo boh non so non so perché me l'ha detto troppo tale se potenziate un casino anche lei lui vabbè lei diciamola vabbè ragazzi direi che anche questo video anzi no aspettate ah vabbè 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 loro torno da kartman aspettate stavo già concludendo però andiamo da kartman ok eccomi qua signori grazie al novellino abbiamo un intero esercito sono convinto che il novellino meriti di non essere famoso di livelli in un'ora dei sui sforzi non sarà più chiamato coglionazzo novellino ora ti chiamiamo ser coglionazzo con conclusazioni grandioso adesso si che siamo a porra vabbè adesso siamo forti a carriere raven ha come with news that the stick of truth has not yet been taken to the elven forest it is in the possession of the bard the bard oh god stop the bard the bard is a level 10 drowell who can use magic to enchant and destroy enemies are you ready to continue your training then make haste to the training ground eh si dicevamo bacchetta dell'arte magica 1622 uh fuoco danno da fuoco raga bellissima questa però anche questa qui direi che cioè non è che faccia proprio schifo eh non è che proprio faccia schifo eh anche questa guida eh questo qua cosa fa? 2032 si però questa allora questa fa 2332 fa 5% se uccido qua no aspetta attacco perfetto beh si anche qua per 3 però questo fa più 20 di danno di cioè con l'attacco cioè diciamocelo che è di forte questo cosa fa? ma no no ma io mi tengo le mie cose niente che avevo prima no cosa sto facendo eh guarda che bello che sono così se io dovrei vendere un po' di roba ma vabbè dov'è che si vendeva ragazzi? che non mi ricordo più l'avevo venduto ah qui è il Jimbo's gun si facciamo anche questo addestramento poi sì ok 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 no 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 non riesco ragazzi io non riesco a fare queste cose dell'idea di io non riesco a fare queste cose dell'idea di sì ho schiacciato il destro e il sinistro allora dai ok fantastico fantastico ma mangia le palle bisogna prendere ricordarsi si si infatti ho detto se le palle di Ravens sono corrette il Bard è scendendo all'interno del giggling donkey dobbiamo trovare l'ho prima di poter prendere il stick back to the oven first let us find the board and bring him to justice make haste to the giggling donkey ok abbiamo chiamato gli araldi al potere noi con la nostra bacchetta finalmente una bacchetta degna di questo nome possiamo concludere il video spero vi sia piaciuto questa sera vi sia piacendo e bella a tutti e alla prossima video ciao